1921, siglato il trattato anglo-irlandese 1971, la legge 1034 istituisce i TAR 1990, un jet dell'aeronautica militare precipita a Casalecchio di Reno Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire La morte di Raul Follerot ha coronato una vita, la vita di un poeta e di un giornalista che ha saputo scegliere gli altri più esclusi, i lebrosi